E' appena terminata la festa per la proporzione della Placcia Cerniola in Serie D, passate ormai da pochissimo le 22.30. Tante emozioni con una piazza Duomo strapiena di gente. Allora piano piano cercheremo di avere almeno quantità dei protagonisti anche al nostro telegiornale, davvero una bella sensazione, non ascolterete le voci dei protagonisti. E allora cominciamo la serie delle interviste con Vito Morra, insieme alla sua bella famigliona. Vito, come ti senti dopo questa bella serata? Ci senti, è troppo bello, mi hai appuntato l'audace intervento. E beh, è una bella sensazione di viderla in questa piazza Duomo strapiena. E' una sensazione bellissima. Avanti, vediamo qui con la tua famiglia. Senti, non avete mai avuto momenti difficili nell'arco della stagione, vero? Sì, sono le due partite con l'Oltamura e il Vitondo che siamo rimasti in dieci. Per cui grazie a Santa abbiamo pareggiato la partita anche in super età. Certo è che viverla veramente qui con i tibosi, con una piazza così bella, certamente è un'emozione non da poco. È un'emozione estraordinaria, è un'emozione, è un'emozione, è un'emozione, è un'emozione. Mi piace il cancio. Grazie, Vito. Grazie.